Sor Maria Troncatti Rodondi nasce il 16 febbraio 1883 a Bisognetto di Corteno, provincia di Brescia, Italia. La sua infanzia e adolescenza trascorre serena circondata dall'affetto e dalle premure della famiglia al contatto con la natura. Nel 1904 a 21 anni fa il suo ingresso nell'istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice, una congregazione religiosa fondata in Italia da Don Bosco e Maria Domenica Mazzarello per l'educazione e l'evangelizzazione. Nel 1915, dopo la professione, Sor Maria Troncatti è destinata a Varazze come infermiera per attendere ai soldati feriti della Prima Guerra Mondiale. Nel 1922 si realizza il suo sogno, essere missionaria ed è inviata all'Equador. Durante il primo anno rimane nella cittadina andina di Giunci, dove si dedica agli indigeni di quella zona. Quasi subito parte per la selva amazzonica e dopo un lungo e faticoso viaggio, attraversando la zona montagnosa delle Ande, qui incomincia il suo lavoro interessandosi degli Joar e dei Coloni. La sua missione si realizza a Macas, Sevilla, Sucua. Sor Maria Troncatti, con la sua forma di essere affabile e accogliente, si fa per tutti amica, madre, sorella, educatrice e medico. Con la sua pazienza e capacità di ascolto, fa sì che ci sia unione e rispetto fra Coloni e Joar e li educa al perdono. In un'occasione scrive alla sua mamma, Ti dirò in confidenza che qui, con gli Joar e i Coloni, mi sento contentissima, anche se c'è molto lavoro. Mi chiederai che faccio per avere tanto lavoro. Qui nella foresta si fa di tutto. Sono dentista, chirurgo, dottoressa in medicina, farmacista, infermiera, cuciniera, guardarobiera e soprattutto catechista. Sor Maria Troncatti accoglie una bambina di 12 anni, Jan Pucce, che è scappata di casa dopo la morte della sua mamma e con questo arrivo inizia un lavoro educativo con i bambini e i giovani Joar. Nel 1947, con il primo viaggio di un piccolo aereo, si rompe la solitudine e l'isolamento della selva. Il 27 agosto 1948, con i suoi 65 anni, Sor Maria fa il suo primo viaggio in aereo verso Chito per partecipare agli esercizi spirituali. Negli anni seguenti arrivano la luce elettrica, la radio, il molino, la trebbia e anche la jeep. Vede nascere la federazione Joar. Il 25 agosto 1969, muore in Sukua in un incidente aereo. Questo è stato per tutti come lo spegnersi del sole nella selva equatoriana. La gente esclamava, è morta una santa. Il 24 maggio del 1980, madre Erzibia Canta, superiore generale, e madre Fanni Cerda, ispetrice, chiedono al vicario apostolico di Mendes, Monsignor Felix Pintado, che si dia inizio al processo canonico per il riconoscimento delle eroicità, delle virtù di Sor Maria Troncatti. Il 7 settembre si dà inizio al processo di canonizzazione. L'11 ottobre si fa la cerimonia per il riconoscimento canonico dei resti mortali di Sor Maria Troncatti, i quali sono deposti nella chiesa di Sukua. L'8 ottobre del 2008, il Santo Padre Benedetto XVI la dichiara venerabile. Il 10 maggio 2012, il Papa autorizza divulgare il decreto sul miracolo ottenuto per intercessione della venerabile serva di Dio, Sor Maria Troncatti. Il 25 maggio 2012, il Santo Padre Benedetto XVI definisce che la celebrazione del rito di beatificazione della serva di Dio Sor Maria Troncatti sia a Maccas, sede del vicariato apostolico di Mendes, Ecuador, il sabato 24 novembre 2012. I sacrifici e le sofferenze offerte su quei sentieri delle Ande per arrivare alla selva amazzonica hanno dato il loro frutto. Il regno di Dio è già un albero frondoso. Sor Maria Troncatti Rodondi, missionaria salesiana. a 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 Grazie a tutti